Ufficialmente era una pizzeria, ma oltre a Margherito Capriccioso era possibile trovare anche sigarette di contrabbando e bombole GPL. È quanto scoperto a Pozzallo dalla Guardia di Finanza, che ha accertato l'esistenza di una vera e propria attività illecita parallela a quella legalmente esercitata dal titolare di una pizzeria di scicli. L'uomo, già da tempo nel mirino delle fiamme gialle, oltre a vendere pizze e altri generi alimentari, veniva periodicamente rifornito di sigarette di contrabbando provenienti dall'Albania, che poi venivano rivendute a prezzi leggermente inferiori rispetto a quelli di mercato. Oltre alla vendita non autorizzata di sigarette, lo stesso titolare era solito commercializzare abusivamente anche bombole GPL per uso domestico. I militari, al momento dell'accesso nella pizzeria, hanno sorprese il titolare mentre vendeva un pacchetto di sigarette di contrabbando ad un cliente che le aveva appena richieste alla cassa. Tale circostanza ha fatto intervenire i finanzieri, i quali, una volta appurato che l'esercizio commerciale non risultava in possesso della prescritta licenza per la vendita di tabacchi, hanno rinvenuto sotto il bancone oltre 200 pacchetti di sigaretti, privi di sigillo dei monopoli di Stato, pronti per la commercializzazione. Nello stesso locale è stato poi scoperto anche il deposito di bombole GPL abusivo, in quanto il titolare della pizzeria le vendeva e le consegnava con un furgoncino, senza alcuna autorizzazione ed in mancanza del prescritto certificato di prevenzione incendi. Gli oltre 4 kg di sigarette e le 9 bombole rinvenute per un totale di 120 kg di GPL sono stati sottoposti a sequestro, mentre il commerciante è stato denunciato alla procura per detenzione abusiva di materiale infiammabile, pericoloso per l'incolumità pubblica. Inoltre all'uomo sarà combinata una sanzione amministrativa che va da 5.050.000 euro per detenzione e vendita di sigarette di contrabbando.